Ciao followers, un caro saluto, questo momento è tutto per noi. Per un gigante! Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey! Vedo che ti piace, io sono Ryuk, lo Shinigami che ha perso quel quaderno. Adesso ho perso la reputazione. Quello che aveva detto raro ci sta lanciando i giganti addosso! No, signor Sirius! Guardate, sto per eliminare per sempre l'assassini, si è tolto la vita vostra mare! No, signor! Ryuk, perché? Vuoi che Eren uccida Eren? Non provare ad ostacolarci, maledetto babas... Mikasa sei Mikasa! Sono io che devo uccidere quel gisi! Ora è il momento di chiudere i momenti! Sta a vedere! Parra! 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 Merde! Perché? Ti prego, Eren! Rionare, nutriente, leggero, tenero, così tenero che si taglia con un gressino. Scusate. Scusa. Allora ditemi, avete analizzato il contenuto del contenuto? Sembra proprio se mes è qualcosa di avanzato. Non è paragonabile al nostro livello tecnologico. Questa acqua è sassi per davvero... Te l'avevo detto, Eren. Un enorme lago salasso che i mercanti non riusciranno mai a prosciugare, nemmeno mettendoci una vita. Ciò che ho sempre pensato, corrispondeva alla realtà. Sì, è davvero immenso. Sì, è davvero immenso.